Mi chiamo Leporati Cristina e sono l'International Export Manager di Bialetti da parecchi anni, responsabile del mercato del Nord e Sud America per la Bialetti Industria appunto. La Bialetti è il leader di mercato italiano e mondiale per quanto riguarda le caffettiere e appunto da parte anche del mio CEO voglio ringraziare la Camera di Commercio ma soprattutto l'ambasciata italiana in Ecuador per questa grandissima opportunità che ci sta offrendo di presentare appunto la nostra azienda e i nostri prodotti. Allora iniziamo subito. Il nostro prodotto iconico è la Mocha, la Mocha Express che nasce appunto nel 1933 da un'idea del grande Alfonso Bialetti che appunto l'inventore di questo mitico prodotto. È una caffettiera a forma ottagonale e diciamo che è l'unica caffettiera al mondo con questa particolare forma che è data essenzialmente dalla grande funzionalità del procedimento per fare appunto il caffè. Alfonso Bialetti con questa invenzione cambia totalmente il modo di fare caffè e di fare caffè diciamo così non solo in Italia ma poi dagli anni 50 anche in Europa e in tutto il mondo. Infatti da un caffè chiamiamolo così napoletano si passa successivamente ad un vero caffè italiano creato proprio con questo prodotto che diventerà poi negli anni 60 un'icona italiana nel mondo. Tant'è che è anche presente in vari musei come per esempio il MoMA oppure il Museo della Tecnologia di Londra. Allora diciamo che con lo sviluppo della moca si nasce poi il nostro logo che è il Lomino Lomino che è diciamo così famosissimo ora ed è stato creato dalla penna meravigliosa di Paul Campani che è Lomino con i baffi che praticamente si ispira a Renato Bialetti che è appunto il figlio di Alfonso che rende la moca famosa in tutto il mondo. Successivamente Lomino con i baffi diventa poi anche il protagonista di divertente racconti come Il Carosello per esempio durante gli anni 50 e 60 con la nascita della televisione in Italia. Poi creando anche poster che si diffondono in tutte le città italiane proprio per pubblicizzare i prodotti Bialetti ma soprattutto la moca e questo prodotto che veramente è famosissimo oggi nel mondo perché ha cambiato, ha inventato un modo di fare caffè diciamo all'italiana. Altre cose che ti posso dire appunto che la Bialetti crede appunto che nella professionalità e le risorse soprattutto delle persone che lavorano all'interno del gruppo siano la forza appunto del gruppo stesso. La tradizione riconoscimento di qualità e anche l'altro grado di innovazione di designer ci ha portato a creare una serie di gamme che sono sempre caffettiere ma abbiamo cercato di ampliare anche il tipo di caffè diverso per esempio a parte la moca che è il prodotto iconico che abbiamo sia in alluminio oppure ce l'abbiamo colorata abbiamo anche quello con la bandiera italiana quindi rosso, bianco e verde poi abbiamo la nera che è molto elegante poi abbiamo appunto la fiammetta oppure la rainbow che sono prodotti molto usati soprattutto in primavera quando c'è un'esplosione di colori quindi portare il colore all'interno delle cucine italiane e anche all'estero oppure abbiamo un segmento specifico di caffè particolari come potrebbe essere, non so, la bricca la bricca per avere un caffè molto cremoso quindi un caffè con la crema esattamente come quello del bar oppure una mucca che crea e che produce, che fa il cappuccino quindi una caffettiera particolare che insieme al caffè appunto gli si può aggiungere il latte e viene montato il latte come viene fatto un cappuccino al bar oppure abbiamo il segmento delle caffetiere in acciaio che sono adatte per le cucine ad induzione e qui ci sono dei modelli bellissimi appunto non so come la new mocha induction come la venus oppure come la bricca induction che appunto è stata appena lanciata nel 2021 diciamo che, esatto, tutti questi prodotti secondo me sono adatti al mercato in Ecuador quindi non vediamo l'ora di ampliare tutto il nostro assortimento anche sul mercato del vostro bellissimo paese grazie grazie